Ciao, in questo video vi faremo vedere i due elementi più difficili che abbiamo imparato alla trave. Andiamo in ordine alfabetico parte anica. Ti tacca avanti per anica. Brava! Il secondo elemento qual è? Verticale impostazioni, vediamo. Brava! Grazie. Chi è la seconda? Bea? Bea, cosa mi fai vedere? Ti tacca anche per te, vediamo. Ti tacca per Bea. Un pochino più le gambe tese, il resto va bene. Va bene Bea? Qual è il secondo elemento? Rovesciate indietro. Brava! Lo puoi ripetere? Vediamo se riesci a star su. Tu? Stai più in tenuta? Va bene, dai, quasi. Brava! Emma? Primo elemento per... Qual è il primo elemento? Giambamento. Va bene. Un salto artistico. Bellissimo, brava! Poi? Rondata a salto d'uscita. Rondata a salto d'uscita. E rondata a salto teso per Emma. Brava! E Mina? Cosa ci fai vedere? Rondata a salto. Raccolto, va bene. 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 Ok? Puoi rifarlo? Vai! Bravissima! Ok. Qual è il secondo elemento? E jambe cambio. E jambe cambio. Un salto artistico anche per te. Bene. 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 Brava! Benissimo! Eva, cosa ci fai vedere? Dove sei? Verticale impostazione. Vai! Ok. Piano! Ok. Qual è il secondo elemento? E jambe cambio. Vai, Eva. Oh, brava! Ok. Lo rifacciamo a vedere se me lo fai in piedi come prima. Va bene, dai, quasi. Brava! Francesca, cosa ci fai vedere? Perciò la impostazione. Ok. Rifai. Ok. Qual è l'altro elemento? Flick. Vai! Vai! Ok, ancora uno. Brava! Bravissima! Greta! Qual è il primo elemento? Flick anche per te. Dai, dai, dai. Sai che andava bene? Lascia le braccia subito fuori. Poi. Capisci. Va bene, rovesciate indietro. Avanti. Brava! Questi sono i due elementi che hanno scelto per voi. Ciao! 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 Ciao!